Anche per l'intelligente di me che io personalmente di queste cose ne so pochissime Ma tu le sai tutte, praticamente tutte E poi Derek è lì insieme Io non so niente Bravissimo, perché questo è il 5, vedi? Bravissimo, Derek, questo sarà il... guarda 6, vai 26, bravo E questo? 27 Ok Ho comprato una macchina nuova Adesso è il suo nuovo marito 30 Molto bene, quindi 10, 10, 10 Adesso vediamo un po' Questo che cos'è? Prova 30 E? Guarda che c'è una lunita qua Bravissima, 30 E fortuna, ho comprato una macchina nuova E questo invece? 32 Bravo E qui? Ci sono tremi un minuto E qui? Perfetto Perfetto, questo? 35 Ok 36 Molto bene 36 Ma adesso lei ha un nuovo marito 38 E cos'è? 39 E attenzione Così si scrive il 40 41 E questo è un 50 Meno 10 Quindi questo è? E questo è? 41 Bravissimo Vediamo Questo è un 42 Vai Questo? 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 No Molto bene E 46 Cos'è? Bravissimo È proprio quello Cos'è questo? Dillo tu Sì Vai Oh ho un buco Non importa perché c'è il cartone asciutto Non ti preoccupare Qua? Molto bene Se schiacci va meglio Poi? Guarda qua 49 Bravissimo Non ti preoccupare C'è sempre il cartone Ok E questo? Esatto Cos'è? Attenzione È 50 Cos'è questo? Cos'era questo? Numero? 51 No Questo è 50 Ma la X cos'era? Vai a vedere Cos'era la X? Guarda un po' Derek Derek Guardami 10 Quindi Aspetta Questo è 50 Più 10 Che fa? 60 Vai 50 E questo è 50 Più 10 Più 10 Tu lo sai 70 Vai Esatto E questo? È 50 Più 10 10 10 Fa 80 80 No Cos'è? Aspetta 90 No Bravo È 90 Perché questo è 100 È 100 Meno 10 E questo è? 100 Bravissima Sei rimasto fino a 100 Bravissima Adesso bastano fino a 100 Beh spero di sì Per adesso sì Ma stai facendo ganzen Per la Essa